Il ruolo di mass media è conosciuto, è conosciuto e in mass media sappiamo perfettamente il potere di influenzare anche le coscienze, di orientare eventualmente così come gli uomini politici. L'uomo politico, l'uomo che comunque ha visibilità, orienta inevitabilmente, c'è una responsabilità ecco su quello che viene detto in televisione che è evidente ed oggettiva. Il fatto probabilmente anche di all'inizio della pandemia dimostrare quelle che potevano essere eventuali, lei portava prima l'esempio delle bare di Bergamo, probabilmente era un modo per sensibilizzare a quello che poteva eventualmente anche accadere qualora ci fossero stati dei comportamenti non adeguati e non rispettosi. Quindi è chiaro che si vuole dare un messaggio, la comunicazione televisiva è strategica in questo, come non solo la comunicazione televisiva, come è il caso di tutti oramai quelle piattaforme digitali che ognuno di noi non può farne a meno. Oramai il messaggio da un punto di vista culturale si è spostato soprattutto nell'immagine. Oggigiorno i ragazzi, come le persone, tendono a documentarsi attraverso i social, difficilmente uno va ad acquisire materialmente un giornale. Ecco, oramai la cultura digitale è una cultura che oramai è imperante. E quindi anche dovremmo attivare tutti quei filtri, quei sensi critici. Dobbiamo sorvegliare i nostri ragazzi che mai come in questo periodo, per esempio, possono essere veramente vittime di adescamento online, quei fenomeni del grooming, proprio perché passano molte ore e soprattutto durante l'età evolutiva, durante l'età adolescenziale, questo loro desiderio di emancipazione, questo loro desiderio di rapportarsi all'interno di un gruppo, questa loro comunicazione molto spesso incuriosita anche dalla sfera sessuale, perché guardate che l'adolescente è molto interessato a quella sfera e quindi sono facilmente prede di adescatori. Mai come in questo periodo si è registrato un aumento di casi e di denunce alla polizia postale su adescatori, su groomer, su violenze intradomestiche, sul fatto di richieste di separazioni di divorzi. Cioè l'ambiente intradomestico estremamente digitalizzato ha esposto tutti noi ad, come diceva il professore, un'infodemia, cioè un bombardamento di notizie e che è un caos anche a volte, perché abbiamo un esperto che dice, è un'arena, io l'ho effettivamente soprannominato un'arena scientifica, perché trovavi esperti che dicevano una cosa, cambiavi canale e ne dicevano un'altra e questo genera confusione, però siamo in un momento in cui mentre l'adulto è anche in grado di razionalizzare, il bambino, il ragazzo giovane molto spesso può essere preda anche di questo tipo di meccanismi di comunicazione che non è sempre cristallina e magari a volte è sempre orientata o eventualmente orientata a, e poi si vedono se non c'è un controllo, una sorveglianza genitoriale, poi accadono i drammi che abbiamo visto a Palermo di quella ragazza che si è scoperto a essersi messa in gioco attraverso un gioco che era stato proposto online e che ha appunto e si è suicidata strozzandosi al collo, la ragazza aveva tre profili social attivi, allora a prescindere dalla curiosità dell'adolescente, dalla necessità di mostrarsi, di mettere, di far parte di un gruppo con i propri pari, il periodo adolescenziale è un periodo in cui di estreme insicurezze, di curiosità, di fragilità, ma che obbliga il genitore ad un controllo e ad una sorveglianza attenta ed efficace nei confronti dei social, soprattutto per i nostri ragazzi che mai come in questo periodo stanno soffrendo di ansie, di insonnie, di inquitudini, di incertezze e anche di stati depressivi.